ciao a tutti oggi esploreremo i fondamenti di blender in ambiente linux questa è semplicemente una distro basata su ubuntu si chiama zorin e magari successivamente farò un video introduttivo e vi spiegherò anche come installarla e tutte le sue funzioni base di solito negli ambienti debian based cioè basati su debian e quindi ubuntu zorin mint con il desktop environment di tipo 3 gnome 3 praticamente abbiamo la possibilità di andare a selezionare lo store che di solito si chiama software e possiamo installare blender da qui abbiamo due modi da qui oppure andiamo sul sito direttamente e andiamo a scaricare la versione che di solito esce l'ultima versione che adesso è alla 2 90 e poi possiamo anche selezionare una lts che sta per long term support che praticamente è quella che dà la massima compatibilità con le plugin e minimizza i rischi di diciamo di crash eventuali o comunque di incompatibilità con determinate plugins io suggerisco sempre di di andare per le lts anche per i sistemi operativi basati su kernel linux alla fine la stessa la 2.83.6 e potete praticamente scaricarla da qui aprite la pagina se avete chiaramente windows o mac insomma la stessa cosa vi reindirizza al file all'eseguibile un pacchetto di installazione specifico e così via una volta installato lo avviate e adesso andiamo a vedere il vero e proprio il vero e proprio programma ok allora di default quindi di base il blender si presenta così con un cubo è come se già avesse introdotto una una mesh 3d nella scena una luce e una telecamera virtuale e andiamo a vedere i fondamenti del tool in alto a sinistra abbiamo come spesso in quasi tutti i programmi i canonici file edit render finestra window no help con la documentazione è chiaramente in inglese e poi abbiamo delle delle shortcut che selezionano praticamente l'ambiente a seconda degli usi e chiaramente presettato in maniera tale che non dobbiamo ogni volta andare a settarcelo e consiglio di utilizzare questi man mano che imparerete a modellare a scolpire a utilizzare le texture la gestione delle uv eccetera eccetera perché sono comodi e c'è una cosa anche da dire quando voi aprite un progetto e lo andate a salvare ad esempio state lavorando che ne so a un'automobile o a una sedia un tavolo qualsiasi cosa all'interno del progetto cosa molto comoda andrete a salvare anche l'interfaccia che avete settato in blender quindi se voi ad esempio lasciate una roba del genere trascinate così selezionate insomma e oppure che so al posto di questa timeline di animazione magari la lasciate così e andate a selezionare lo shoulder editor che poi vi spiegherò a cosa serve più in là se andremo a salvare con file salva eccetera eccetera si salverà esattamente così e quindi quando lo andremo a riaprire lo troveremo esattamente così questo è l'ideale piuttosto che andare in file aspetta se ricordo bene andare in edit preferenze e andare poi a salvare le preferenze come se fosse una sorta di screenshot generale di quello che avete lasciato aperto perché semplicemente vi consiglio di non farlo e di lasciare sempre il default perché semplicemente vi dovete anche abituare ad armeggiare con l'interfaccia che all'inizio spaventa tutti spaventa spaventato anche me me compreso ma niente paura perché andremo pian piano a esplorarla in questa introduzione praticamente ci focalizzeremo sul discorso introduttivo di come caricare un file e come utilizzare tutte le funzioni base nella modalità object come la rotazione il movimento e anche lo scaling ossia il proporzionare in maniera di default uniforme la grandezza di una mesh ok prima cosa quando noi siamo nel 3d view possiamo utilizzare questa icona degli assi x y z per andare in proiezioni ortogonale oppure da tastiera sempre quando ci troviamo nella 3d view teniamo premuto il tasto alt e poi schiacciando la rotellina del mouse e andando a muovere il mouse in direzione sinistra destra contemporaneamente andiamo in proiezione ortogonale laterale sinistro laterale destro invece se andiamo sotto è top view dall'alto e se andiamo in su perché è un po' come un simulatore di volo andiamo in giù in realtà io vi consiglio di abituarvi a utilizzare la tastiera altra cosa vi consiglio caldamente di utilizzare la tastiera completa quella 102-105 tasti col tastierino numerico il num lock attivo perché è necessario utilizzare ogni area della tastiera anche perché ad esempio quando noi siamo fuori inquadratura e non vediamo un oggetto con il tasto del che poi corrisponde al punto del tastierino numerico lo andiamo a premere e andiamo a fare un auto un autocentro sull'oggetto quindi questa è una delle tante cose fondamentali inoltre abbiamo all'inizio come è capitato a tutti anche a me per comodità noi andiamo a cliccare sull'interfaccia grafica cerchiamo la GUI no? la graphic interface per andare a passare ad esempio dall'edit dall'object mode all'edit mode però noi possiamo farlo ovviamente molto più velocemente da tastiera come premendo il tasto tab e quindi passando da edit a object o da object ad edit dove ci troviamo ci troviamo insomma e anche qui vi suggerisco di abituarvi ad utilizzare la tastiera semplicemente quindi ritornando al discorso della delle basi ok un'altra cosa che dovete sapere è quando noi selezioniamo un oggetto e lo vogliamo portare alla griglia all'altezza della griglia dobbiamo andare qui in movimento andiamo ad agire sull'asse tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e poi teniamo premuto control e fa una sorta di snap chiaramente se io abbasso qui e poi tengo premuto control anzi devo prima tener premuto qui e poi tengo premuto control ecco qua abbiamo fatto uno snap esattamente beh non proprio però perché l'ho mosso prima ecco perché ok vediamo un attimo così esatto praticamente si allinea alla quadrettatura o al quadrettato come lo volete definire questo vabbè giusto per perché in effetti perché quando andiamo a generare una nuova mesh che di solito si genera dove c'è il punto del 3d object e quindi lo andiamo magari non lo spostiamo no per il momento lasciamolo qui facciamo shift e a e andiamo a selezionare un piano ad esempio ci appare lì ce lo genera lì dove abbiamo settato il 3d object se vogliamo spostare il 3d object perché abbiamo l'esigenza di fare spazio di lavorare fianco a fianco con altri oggetti teniamo premuto shift tasto destro del mouse e poi clicchiamo shift più tasto destro chiaramente nella 3d view non è preciso e quindi ci conviene sempre andare in proiezione ortogonale se lo vogliamo già generare più o meno in asse o esattamente poi comunque lo possiamo anche modificare dopo spostare dopo però questi sono i fondamenti chiaramente quando andiamo in proiezione ortogonale ci calcola solo la base e l'altezza ci calcola solo due dimensioni quindi quando andiamo a muovere l'oggetto ad esempio premiamo G e poi spostiamo il mouse ce lo sposta solo in alto e in basso non ci calcola la profondità e quindi questo è molto utile con la rotellina del mouse andiamo a fare lo zoom poi abbiamo anche la possibilità di tenere premuto ctrl e andare su e giù col mouse che è molto più comodo e più preciso se invece teniamo premuto la rotellina del mouse e muoviamo il mouse andiamo in 3D view automaticamente quindi ora facciamo uno scaling di questo e magari andiamo in top view quindi premiamo S scusate e ok direi che va bene ok e gli abbiamo dato un piano poi successivamente possiamo anche premendo R ruotarlo tenendo premuto ctrl lo andiamo ad attaccare alla griglia ad esempio se vogliamo dargli una posizione a rombo e quindi così operiamo in maniera precisa ok adesso per il momento lasciamo questo così e ritorniamo ad esplorare la toolbar principale allora in file noi abbiamo la possibilità di caricare un progetto presentato generico come è di default questa scena un'animazione 2D una scultura un VFX che sarebbero gli effetti speciali gli effetti visivi o in modalità video editing perché Blender è anche un video editor e ha due principali funzioni perfettamente integrate quella di video editing classico dove andate a sminuzzare il video fare le introdurre che ne so inserire le transizioni tutte quelle cose così oppure andate a fare un vero e proprio video composing dove nella scena 2D filmata potete introdurre anche un'animazione 3D fatta con Blender e quindi andate a fare la composizione e l'unione insomma l'unione di queste cose poi qui aprite il file qui c'è il classico la classica voce che vi apre l'ultimo file a cui avete lavorato quello recente o una lista di recenti e qui avete invece il recupero dell'ultima sessione salvata o un autosave se magari precedentemente avete fatto un render si è bloccato il programma è crashato può capitare anche quando fate il baking delle luci ad esempio che è un'operazione pesante che non fa altro che Blender non fa altro che generare su disco praticamente delle informazioni che vi aiutano a caricare successivamente il progetto in maniera più veloce e può capitare che quando è troppo pesante perché magari non lo avete fatto spesso ma lo avete fatto dopo un enorme mole di lavoro e quindi avete creato tante cose nella scena potrebbe anche bloccarsi però non rovina il progetto poi qui salvate qui salvate come salvate una copia e poi vabbè tutte queste le vedremo dopo molto dopo perché quest'icona append non fa altro che inserire un altro oggetto 3D all'interno di una scena già aperta ad esempio state lavorando che ne so a un paesaggio e dovete inserire una serie di alberi o altri elementi e quindi utilizzerete questo e il resto poi lo vediamo import export sono i salvataggi esportati o importati da diversi formati e poi il resto si lo vediamo dopo allora poi abbiamo edit e qui io direi inutile esplorarlo perché lo vediamo in maniera dinamica stesso nella 3D view qui è render dove potete renderizzare l'immagine e chiaramente prima di andare a renderizzare l'immagine dovete settare la telecamera la telecamera ha un default andate a cliccare qui in questa icona a forma di appunto di telecamera o di proiettore oppure andate a premere il tasto 0 del tastierino numerico e chiaramente per spostarla dovete prima selezionarla perché è un oggetto a tutti gli effetti poi andate in modalità telecamera quindi siete diciamo in soggettiva e con gli assi andate praticamente a spostarla ora magari la settiamo già in maniera tale che quando andremo a fare un rendering ce la troviamo più o meno ok ok e questo è quanto questa è la modalità object ritornando nel 3d view passiamo alla modalità edit che è la cosa più interessante per quanto riguarda ed è anche l'aspetto che utilizzeremo quasi sempre quasi ininterrottamente perché è una delle parti fondamentali di questo software quando si deve modellare quando anche si deve scolpire ma non quando si devono utilizzare delle funzioni speciali sulla mesh perché il programma per qualsivoglia ragione ci chiederà sempre di ritornare in modalità oggetto che è l'unica modalità dove noi possiamo appunto ruotare spostare cambiare le misure eccetera eccetera altra cosa e ultima cosa chiaramente non fate caso a queste due icone perché sono delle plugin che ho installato sono personalizzate normalmente ecco si presenta così senza queste ultime due quello che abbiamo esplorato è qui anche nella toolbar come la rotazione lo scaling però lo scaling quando noi andiamo a selezionare in questo caso l'oggetto si presenta in due modi questa è quella di default dove noi in proporzione possiamo agire su ogni asse oppure tenendo premuto il tasto sinistro del mouse e poi spostando andiamo nella scale cage che è la gabbia per chi ha un minimo di familiarità con il 3D ha già visto una roba del genere soprattutto in programmi più semplici come sketchup questo è il default in sketchup quando volete proporzionare le cose non sempre è precisa soprattutto quando agite in 3D view perché per esempio questo è il baricentro di ogni faccia e sta a indicare che quando andiamo a cliccarci sopra e poi andiamo a trascinare sempre tenendo premuto il tasto sinistro e poi andiamo a trascinare muovendo il mouse ci proporziona in blocco più spostamento ok però non sempre lo fa perché a volte anche se cliccate qui magari può prendere un'altra cosa e si incasina un po' però niente paura perché quando sbagliate basta fare tener premuto control e poi z e ritornate esattamente nella nella funzione precedente perché sarebbe lando ok che hanno tutti i programmi come photoshop illustrator eccetera eccetera tutti i programmi di grafica quindi questo per il momento va bene così ora passiamo alla modalità edit che è quella più interessante nell'edit noi diamo un senso e uno scopo alla modellazione e si capisce cosa è la modellazione già rispetto alla scultura in ambito artistico le cose sono facili da da confondere perché noi o chi viene dal liceo chi viene insomma dall'accademia d'arte o istituti d'arte vari per noi è la stessa cosa è un qualcosa di molto dinamico ma in realtà la modellazione non è la definizione di una forma il levigare ad esempio questo blocco che magari può essere di marmo o di argilla quello che è a dargli una forma di base che poi andrà a finire nel dettaglio e nelle rifiniture fino alla fase finale fino alla finalizzazione vera e propria dell'opera e quindi queste due cose nel digitale sono separate e sono anche in ordine logico cioè viene prima la modellazione e poi la scultura prima cosa che andremo a fare è premere Z per andare in modalità solido poi premeremo di nuovo Tab per passare dai vertici che qui è di default e ci indica i punti alle facce anzi all'Ig questo perché? perché adesso abbiamo necessità di dare una forma a questo cubo vogliamo fare ad esempio un tavolo? benissimo andiamo con loop cut andiamo in modalità proiezione ortogonale e andiamo a prendere andiamo a fare la suddivisione semplicemente dell'oggetto quindi partendo dal centro clicchiamo e abbiamo fatto la prima divisione poi facciamo la seconda e esatto e ci siamo ricavati il pezzo di sopra poi facciamo quest'altra divisione verticale poi andiamo qui poi andiamo qui poi andiamo qui poi andiamo qui ok e poi facciamo la stessa cosa anche qui possiamo andare anche in 3D view però prima di cliccare state attenti per il momento orientatevi con l'automazione ossia l'algoritmo del loop cut vi cerca di default sempre il punto centrale di una sezione cioè tra questo e questo il punto centrale è questo e tra questo e questo e il punto centrale è questo quindi di qua andiamo a separare facciamo uguale e va bene così direi ora usciamo da questa dal loop cut e andiamo in selezione premiamo di nuovo tab e andiamo questa volta in faccia teniamo premuto il tasto shift e poi col tasto sinistro del mouse o andiamo a cliccare singolarmente oppure facciamo una selezione tenendo premuto il sinistro ora se per sbaglio ci clicchiamo fuori no facciamo sempre ctrl z e recuperiamo poi sempre tenendo premuto shift perché raggruppiamo cioè stiamo raggruppando la selezione utilizziamo sempre il tasto sinistro del mouse ok sezione per sezione io faccio così all'inizio per farvi capire come è strutturato ok per farvi abituare anche l'occhio chiaro che vado più veloce vado diverso e e va bene così allora ora andiamo a modellare il tavolo e diciamo che vogliamo un attimo proporzionarlo teniamo premuto s no premiamo s scusate e poi trasciniamo anzi mi sa che dobbiamo anche selezionare questa esattamente tenendo sempre premuto shift esatto facciamo una roba del genere anzi meglio selezionare anche i piedi eh sì questo è il bello dell'improvvisazione non è che siamo sempre precisi però ok gli diamo già una definizione non importa la proporzione questo è giusto per allenarci ora andiamo a selezionare queste facce che non ci interessano premiamo il tasto del e selezioniamo facce e facciamo lo stesso sempre tenendo premuto shift e tasto sinistro del mouse con il resto della figura ok del facce ora però vedete cosa cosa succede all'interno aspetta che vado un attimo in object seleziono e lo proporziono ok nella scena dobbiamo eliminare anche il resto quindi ritorniamo di nuovo in edit selezioniamo qua 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 è anche carino così però non è funzionale o magari sì magari si può fare che ne so un vetro successivamente però vabbè vi sbizzarrite voi con i dettagli io vi do solo l'input premiamo di nuovo del ok adesso andiamo sempre con tab in modalità vertici e qui viene la precisione togliamo per il momento il plane esattamente come altri programmi di grafica qui abbiamo degli occhietti e possiamo selezionare e deselezionare dalla scena per il momento non ci interessa quindi lo leviamo ci dà solo fastidio quindi sempre con shift teniamo premuto teniamo premuto teniamo premuto sulle facce esterne perché qua stile Ikea poi premiamo F e andiamo a chiudere ci chiude anche la base come potete vedere e andiamo a fare lo stesso con gli altri anche qui quando selezionate un vertice premete punto del dal tastierino numerico andate a focalizzare il punto che avete selezionato premiamo di nuovo F e chiudiamo questo è un modo io preferisco mostrarvi un modo del genere quando si seleziona quando si lavora un singolo oggetto perché è dinamico e vi da anche la sensazione di lavorarci intorno e utilizzate questa cosa ah ecco vedi in questo caso io non ho chiuso quindi devo andare di nuovo a selezionare i tre e chiudere sempre con F ok non vi dimenticate mai ah non l'avevo chiuso qui ok perfetto e anche qui possiamo fare secondo me anche così direttamente ok no no perché deve prima calcolare l'esterno e poi si ok e adesso chiudiamo la parte del tavolo perfetto perfetto ok adesso andiamo di nuovo in modalità object e vi mostro un'altra cosa anche se abbiamo iniziato a modellare e dargli una una definizione no già ben precisa come forma struttura eccetera eccetera è rimasto il baricentro del cubo come ovviare a questa cosa clicchiamo col tasto destro e andiamo a settare l'origine del punto e selezioniamo geometria verso l'origine e lo abbiamo corretto quindi ha aggiornato il baricentro del tavolo e della sua struttura bene successivamente passiamo alla modalità ritorniamo di nuovo alla modalità edit ok ok da notare che edit conserva l'ultima l'ultima operazione e andiamo in proiezioni ortogonale premiamo di nuovo tab e passiamo a edge ritorniamo con loop cut e facciamo altre suddivisioni verso la superficie del tavolo per dargli una forma meno spigolosa selezioniamo il select box e con alt e tasto sinistro del mouse andiamo a selezionare tutta la superficie anche se io vi consiglio meglio di andare in wireframe e fare la selezione così andiamo a prendere tutti i lati meglio lavorare così wireframe poi premiamo s e andiamo a spostare il mouse verso il centro non troppo perché altrimenti lo chiudiamo così e diamo una specie di smussatura clicchiamo di nuovo il tasto sinistro del mouse e poi andiamo a selezionare il secondo con lo stesso metodo di prima e ancora con s andiamo a smussare e poi il terzo chiaramente più ne generiamo di suddivisioni e migliore sarà questa procedura ok poi andiamo di nuovo nella modalità solido premendo z e poi selezionando solido oppure premiamo il tasto 6 se vogliamo fare tutto da tastiera controlliamo un attimo in 3d view com'è e gli abbiamo dato una forma decisamente meno spigolosa poi ritornando in object e qui vi introduco al discorso delle proprietà del modificatore questa icona a forma di chiave inglese è le proprietà modificatore cosa sono i modificatori i modificatori sono delle funzioni speciali che vengono aggiunte alla vostra mesh ed è tutta matematica sostanzialmente sono tanti calcoli complessi che il sistema di blender fa per voi e voi non dovete fare altro che selezionare una caratteristica per poi a livello parametrico dare delle impostazioni degli input e poi al resto pensa il programma una volta che avete applicato gli input all'interno ce ne sono tantissime ora non le snoccioleremo una per una però quelle più diciamo utilizzate ecco agli inizi per chi si avvicina a blender è il boolean che non fa altro che unire due mesh o in tre diverse modalità se ricordo bene e una di queste è la più utile e più utilizzata perché è quella che vi da l'effetto di sottrazione più invisibilità cosa significa ad esempio vi capiterà di vedere anche dei tutorial in giro della famosa mela stile apple con il morso come si fa quell'effetto del morso in effetti noi creiamo due mesh una principale è quella della mela che ovviamente è intera abbiamo due possibilità o utilizzare il boolean oppure faticare in maniera incredibile andare a modellare la mela a sottrarre insomma a fare il segno del morso magari andiamo anche in sculpt andiamo a erodere la zona eccetera eccetera però questo se non si è già abbastanza bravi può generare degli errori di topologia della mesh che sarebbe tutta la superficie della mesh si può incasinare e quindi di conseguenza vi porta ad altri errori in fase di applicazione di una texture invece il boolean è pulito preciso perché noi andremo a creare dei cilindri che simulano i denti li andremo a deformare ne facciamo che ne so tre per esempio e andiamo tramite il boolean a unirli con la mela e quindi poi ci ricaviamo la sottrazione ok poi per il resto successivamente nei prossimi tutorial insomma approfondiremo questa sezione per il momento non ci interessa quello che ci interessa giusto così per chiudere la prima parte è questo questo menu di proprietà rendering molto utile dove noi andremo a selezionare anche i diversi rendering come ivi che è di default workbench che lo utilizziamo di solito per andare a scolpire e in workbench sostanzialmente possiamo tramite render possiamo dargli un materiale provvisorio che è utile proprio per andare a scolpire perché ci permette di poter vedere le ombreggiature la profondità di poter leggere meglio la profondità soprattutto quando siamo in 3D view possiamo chiaramente anche cambiarlo con vari materiali possiamo caricare gli HDR per chi ha familiarità con il 3D e magari ha utilizzato ZBrush sa già cosa sono le varie matcaps tutte queste cose qui le luci eccetera eccetera e poi c'è Cycles che è il rendering più pesante ma quello più preciso soprattutto con luci ombre è il classico rendering che fa lavorare la scheda video in pieno e si suddivide anche con un set di caratteristiche che supporta la scheda video se avete ad esempio una NVIDIA che supporta i CUDA con questo lo potete sfruttare oppure potete sgravare tutto il calcolo sul processore anziché la GPU e generalmente è utile soprattutto quando andate a renderizzare una scena o un'animazione anche una singola scena una singola screenshot e con Cycles c'è molta più precisione di rendering EV o EV è progettata per una migliore fluidità per un discorso di avere meno sgravo possibile soprattutto quando si va a modellare a scolpire praticamente in tempo reale e con il rendering praticamente ha un discorso non proprio preciso anche se qui possiamo andare a settare le ombre e possiamo aumentare la precisione ma è una sorta di diciamo di fake non è proprio preciso come lo è Cycles Cycles c'è una bella differenza insomma e questo è giusto per iniziare a dare un discorso introduttivo a Blender poi per il resto successivamente magari vi iscrivete al mio canale e seguirete a indivenire per il momento vi ringrazio ciao ciao